Ciao ragazzi, un saluto da Zeva Bianconera, allora, allora che partito orribile che abbiamo fatto, allora sono beccati l'umiliazione in casa ad andare a Fiorentina, andare a Fiorentina, ma non ci credo, non ci credo, allora ragazzi abbiamo preso subito il gol dello 0-1, dopo 3 minuti e primo tempo da parte di Vlaovic, poi è stata un'espulsione per Quadrado, una grandissima cazzata di Quadrado, però potevi anche evitare, cazzo, questa grandissima ingenuità, e Quadrado si è beccato in rosso, quindi è stata un'espulsione per Quadrado, poi ha giocato quasi tutta la partita in 10, poi fissi il primo tempo su 0-1, poi il secondo tempo è stato 0-2 da parte di un'autogol di Alexandro, e poi è stato anche lo 0-3 di Cazares, che partita orrenda e che umiliazione da parte della Fiorentina, che umiliazione! E adesso partiamo con il 0 pagelle della nostra Juventus! Cesny 5, Quadrado 4, Derit 7, Bonucci 4, Alexandro 5, Ram 6, Cinque e mezzo, Bentancur 5, McKinney 6, Chiesa 5 e mezzo, Morata 5 e mezzo, Ronaldo 6 e mezzo, Danilo 6, Bernardeschi 5 e mezzo, Kourouzeski senza voto, Frabotta senza voto! bene ragazzi con questo è tutto via una buona notte iscrivetevi al canale youtube e seguitemi anche su instagram su zebra tatillo basso bianconera seguitemi specialmente anche sulla pagina facebook di zebra bianconera fino alla fine forza juventus buonanotte a tutti ragazzi ciao